È necessaria ed urgente una soluzione pacifica alla crisi siriana, nonché una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese. È il primo messaggio del Papa, ad Amman, all'inizio del suo pellegrinaggio apostolico in Medio Oriente. Papa Francesco ha sottolineato l'impegno per la pace, l'accoglienza dei profughi, il dialogo e la tolleranza messo in atto dal Regno di Giordania. Si è rivolto poi alla comunità cristiana, invitandola a proseguire nell'impegno per la giustizia, la pace e la promozione sociale, attraverso opere assistenziali e caritative connaturate con la professione di fede. Ha notato poi che i cristiani possono professare con tranquillità la loro fede nel rispetto della libertà religiosa, che è un fondamentale diritto umano e che, auspico vivamente, ha detto, venga tenuto in grande considerazione in ogni parte del Medio Oriente e del mondo intero. I cristiani, ha aggiunto il Papa, si sentono e sono cittadini a pieno titolo ed intendono contribuire alla costruzione della società insieme a loro con cittadini musulmani, offrendo il proprio specifico apporto.